Ben trovati e benvenuti al punto sulle notizie realizzato da Vivi Centro Network, direttore Mario Vollonu. Minaccia con una pistola il titolare di un deposito giudiziario per riavere l'auto. I carabinieri arrestano un ventenne di bagheria. I carabinieri della compagnia Carabinieri di Bagheria, Palermo, hanno dato esecuzione ad un'ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Termini Imerese, Palermo, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di MFP, ventenne, con precedenti di polizia, ritenuto responsabile di tentata estorsione, detenzione e porto illegale di arma comune da sparo, resistenza e violenza e minaccia a pubblico ufficiale. Ascoltate, può trovarle con tutte le altre news più interessanti del giorno sul nostro network vivicentro.it e nelle nostre edizioni regionali e sportive. Grazie. 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 Grazie.